Soleil uscita dalla camera dove ha visto la reazione di Alex Belli alle foto di Delia sbotta. Alla domanda di Alfonso Signorini se Alex si stesse trattenendo con lei per la presenza delle telecamere lei risponde di sì. A dire di Soleil Alex si trattiene a causa delle telecamere altrimenti sarebbero andati anche oltre. Ma Alex ventisce. Ecco i primi attriti dei due amici. Soleil non ci sta. Ha confessato ad Alfonso che la più vulnerabile in questa storia è di fatto lei che è stata tirata in mezzo a due individui che nessuno finora ha capito. Soleil sembra amareggiata. Alex se la prende e non è d'accordo con Soleil e se ne va infuriato. Mentre ha le foto di sua moglie Delia nelle braccia di un altro ha risposto con un sorriso. Al termine del collegamento Alfonso dice ad Alex. Sei proprio un bel soggetto. Soleil resta amareggiata e chissà se continuerà a voler credere ad Alex o apra gli occhi prima di prendere una brutta delusione. Canale YouTube Fabio Pecce.